Serre l'avevate ripresa la partita ma alla fine è arrivata anche oggi la beffa. È arrivata la beffa, peccato perché abbiamo fatto anche oggi una grande prestazione. Abbiamo preso gol oggettivamente, un giocatore nostro che è infortunato, che è uscito fuori, è passati due minuti, ancora non ce lo faceva rientrare quando la palla era completamente da un'altra parte e in effetti abbiamo preso gol in quella situazione di campo. Mi aspetto che riusciamo a uscire fuori da questa situazione, anche oggi in emergenza abbiamo dimostrato di aver carattere e di dire la nostra in qualsiasi partita del campionato. Anche oggi abbiamo sfornato una grande prestazione, purtroppo nel calcio la prestazione serve a poco se non è condita da un risultato positivo. Mister, una vittoria sofferta per com'è arrivata alla fine ma meritata? Sì, assolutamente sì. Il fatto che la partita era difficile, l'avevo detto già ai ragazzi, ma già l'avevo detto in settimana perché loro sono una squadra che, anche con la sconfitta di oggi, non molleranno fino alla fine perché conosco l'allenatore. Quindi di conseguenza sapevamo che era una partita difficile contro tanti ragazzi che danno l'anima, vogliono mettersi in mostra così come i nostri. Benvenga il gol di Mario perché il pareggio per noi sarebbe stato deleterio perché abbiamo espresso una molle di gioco veramente alta. L'attaccante ha fatto veramente un grande gol anche perché già ci aveva provato prima che era fuori gioco, ci aveva provato altre due o tre volte, lui mi dice che era rigore, però non lo so, vabbè non mi interessa. Però fare un gol del genere a due o tre minuti dalla fine, una freddezza così del genere, ti fa capire che attaccante di categoria è attaccante forte.